I fedeli musulmani sono in preghiera a Gerusalemme. Per il quinto giorno consecutivo si sono radunati fuori dalla spianata delle moschee per protestare contro la presenza di metal detector per accedere all'area. Da domenica scorsa i musulmani hanno deciso di fermarsi davanti alla porta dei leoni e boicottare così la moschee di Al-Aqsa. Le autorità israeliane hanno infatti deciso di installare metal detector e telecamere per ragioni di sicurezza a seguito di un attentato nel quale sono rimasti uccisi due poliziotti. Un piano generale per fugare le tensioni che accompagnano il rafforzamento delle misure di sicurezza sulla spianata delle moschee è in fase di sviluppo a seguito delle iniziative internazionali per risolvere la crisi. I metal detector saranno rimossi mentre i controlli di sicurezza andranno avanti. Un responsabile di Al-Fatah che supervisiona la questione Gerusalemme ha dichiarato che gli Stati Uniti stanno esercitando pressioni su Israele per accettare questo accordo sviluppato con il sostegno della Giordania.